Il commercio di Zernino è in coma o alla canna del gas, come dicono gli stessi commercianti. Ogni giorno chiude almeno un esercizio commerciale. Il corso è una sequela di serrande abbassate, con il cartello Fittasi appeso davanti. Insomma, non c'è da stare allegri. Ed è solo di qualche giorno fa la notizia che il Comune si sta attrezzando per trasformare il 10 settembre in albergo e menza per i poveri. Per questo, Conf Commercio e Camera di Commercio hanno avuto un incontro al Comune con Luigi Brasiello. All'ordine del giorno le contromisure da adottare urgentemente per venire fuori da una crisi che appare endemica. Penso che basta farsi una passeggiata per il corso di Sernia e lì si ha il polso della situazione e si vede e si verifica con mano che siamo veramente arrivati a un punto di quasi non ritorno. Però siamo sicuramente ottimisti e dobbiamo attivarci tutti, tutti insieme, quindi gli enti e tutti quelli che possono fare qualcosa per tirare su il commercio. Noi per quanto riguarda la Camera di Commercio stiamo mettendo su dei progetti per il turismo che faranno sì di dirottare qui molte persone, per esempio, che vanno nelle regioni limitrofe e con i tour operator riusciremo a portare sul nostro territorio per cercare di aumentare il numero di persone che sono sul nostro territorio e quindi sviluppare per questo il turismo, il commercio e tutte le attività economiche del nostro territorio. A cosa si può pensare di tipico per il commercio di Sernino? Ma di tipico, io non so, penso per esempio che abbiamo noi delle caratteristiche sia territoriali ma anche culturali, quindi abbiamo dei siti che possono essere messi a reddito e soprattutto abbiamo l'agroalimentare che è qualcosa che può essere veramente di grossa attrazione e il tartufo e tante cose che possono essere sviluppate.